Grazie a tutti Che muoiono in fretta Che ho preso Avere molti oggetti Asportarne il più possibile Scarto un attimo queste caramelle Perché sono curioso di vedere Cosa è quell'oggetto Mi incuriosisce tanto Spassiamo questo qua Perfetto Adesso dovrei andare al falò Però lo faccio adesso più avanti Andiamo ad esaminare Al falò Perché ovviamente seta non è capace Di controllare con la torcia elettrica Onice Ecco come si ottengono i soldi Vecchio pranzo istantaneo Cura vivi più cento Venti È probabilmente stantio ma commestibile Hai tutto il diritto di esitare nel mangiarle Purtroppo ovviamente Non ci possiamo permettere Di essere schizzinosi In un'era Ormai apocalittica quindi Con il mercante misterioso Ma poi come lo becco sto mercante Ah eccolo No ma la cosa bella è che ha detto Che è strano incontrarti qui È passato casualmente Dalle nostre parti È uno Shotagon Mi dispiace per il povero Seto Vediamo cosa si può comprare Un ramo Ah si può comprare No al momento non c'è nulla quindi Andiamocene Sei proprio una Shotagon Specialmente in quegli abiti Molto molto sospetti Per rimanere anonimo Le mani ancora qui? Eh infatti Mannaggia la miseria Eh papà Dai su Che rottura di cavoli La tua arma si è rotta Ma come si rompono le armi? Ma che siamo su Dark Souls Veramente? Ma non si preoccupi Ho il mio ramo scello Che farei il culo agli altri Cambio di location? Male 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 per me Dai venditore Vieni Devi venire Oh Meno male Sembra che condividiamo Un legale Eh Legale Un legame speciale Ragazzi scusate ma ormai Ho in mente di fare L'avvocato Illegale C'è la miseria Sto proprio da fuori Comunque mi preoccupa lui eh Che sta a seguire seto In ogni angolo Mi immagino anche Durante I bagnettini Cosa si può comprare? Oh Gioco per gatti Volete vedere che adesso Lo possiamo utilizzare Quando Vedremo dei gatti Durante le nostre Esplorazioni Costa pure poco Io lo compro uno Anzi compriamo ne due E un'altra spada in bambù Un secondo Voglio vedere che dice Scuotilo e gattina correranno Per giocare Ragazze gattono eh Vini micio micio Gioco per gatti Equipaggio di gioco per gatti Premia quando i gatti Sono vicini Per attirare a te Bella questa cosa Per qualsiasi gattofilo Sarà una manna Infatti c'è proprio qua Casualmente Tra virgolette Un gatto Innanzitutto si cambia Arma E poi Ah così devo fare Eccolo qua il gioco per gatti Ah ho capito cos'è Si vede anche in molti anime E manga giapponesi Vini qua micio micio Magari troveremo un negozio di Fuse Trovo la ragazza dei capelli argenti Eccolo che sto pensando anch'io Vieni qua gattino Aspetta come funziona Come cacchio Ma Ah devo sempre cliccare Ho capito Si sta avvicinando No comment Ma non è che qualcosa è legato a qualche Cosa che io non so Però adesso il gatto mi insegue Incomincio veramente a preoccuparmi tantissimo C'è un altro gatto Forse sarà qualcosa legato più avanti a qualche determinato gatto eh Sento dei cani ringhiare Intanto sono pronto ad accoglierli Dove siete bastardi? Un marano Ma questo Ma questo non è un gatto Questo è un mammut Ma quanto cazzo Ma quanto cacchio è grosso Aspetta devo far spazio Prendiamo Dai seto prendi Che ho fatto spazio Di qua si può Entrare Sì Oh oh Mi sa che sono bambini che vogliono giocare con me Che è sto coso più cinque? No Ma che vogliono darmi i calci Ah recuperano anche energia Ecco No no spostati Eh seto però non farti calciare nel culo Danne il calcio e spariscono come tanti birbantelli bastardi Quindi è qua Mi sa che abbiamo vinto Sì Mamma mia Viva le scatole Proviamo a rompere Ah Eh Allora Hacono Nacca Nacca No ragazzi vado un po' avanti Perché sennò Qua non ci muoviamo più Però intanto non ho spazio Per prendere la chiave Questa cosa dell'inventario limitato Non mi piace per nulla Infatti poi potevo anche depositare questa Non l'ho fatto A questo punto buttiamo il ramo Ok Posserebbe meglio non farlo Però non mi scoccio di ritornare a farlo onestamente Quello che è una faccia Ma Spero che la chiave sia per questa porta Ha un feticismo per i gatti Non mi sbaglio Iniziamo già a provarci con lei Seto Complimenti I suoi disegni sono scadenti Che fa anche la gelosona È gelosa della ragazza con i capelli argenti Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi continuiamo un po' ad andare avanti e poi si interrompe il video Anche perché voglio farvi vedere cosa potrebbe capitare qui Almeno spero succederà qualcosa Che altrimenti sarebbe veramente una noia mortale Sembra una specie di labirinto Altro pacchetto Oggetto misterioso Mi sa che sono costretto ad analizzarlo Mi viene questa impressione Si Il suo gatto che mi insegue Dizionario Legge di corto Dico o fiiiite mo mi zikara nai Dico o fiiite mo mi zikara nai Dico o fiiiite mo ma Dico o fiiite mo Esimile Dico o fiiite mo Sta cavolo di telecamere che gira su se stessa mi farà vomitare un giorno di questo Vai Sbagliata anche qua Meno spero che non si rompa la spada, sennò cavolo devo comprarne un'altra Un pacchetto Altro oggetto misterioso forse da analizzare Andiamo di nuovo al falò Poi ho notato che lì ci sta un'apertura Ma io ci vado un attimo L'oggetto lo analizzerò successivamente Non si smuoverà mai Vabbè intanto abbiamo trovato un metodo per andare avanti In mezzo ci... Oh ce l'ho fatta a passare Che culo Dove stiamo andando a finire Sì, to si intravede proprio la tua felicità quando vede degli uccelli La tua passione non finirà mai di stupirmi Ah vero mi sono dimenticato che te ne tende anche tu di uccelli In effetti hanno una forma un po' irregolare Vabbè Seto capite che ti va bene qualsiasi tipo di uccello Basta che sia un uccello Ah, lei preferisce quelli più piccoli Che bello quando si parla di una passione in comune Le risate birbantelle Ci stiamo avvicinando alla Loli Mi piace Queste idee mi piace proprio Oh no E che palle si cani Spero che sia un oggetto di grande valore Altri soldi Cartuccia di gioco Ciao Sì 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 Ma ho capito Paticamente Lui ha giocato a un JRPG Ha dato al protagonista il nome AAA E adesso se ne sta pentendo Pensieri completamente strane Perfetto ragazzi e ragazze Direi a questo punto di concludere questo episodio Spero che vi sia piaciuto Ci spero di riuscire ad acciuffare La Loli Dai capelli argente E nel prossimo episodio Se volete commentate Alla prossima Ciao ciao Ciao